good morning ragazzi e benvenuti io sono il professor federico betti e sono un insegnante di scuole medie qui sotto trovate tutti i miei contatti ci sono su instagram e soprattutto ho aperto un blog in cui parlo di scuola e che mi farebbe molto piacere se andate a vederlo e oggi vado con una delle mie video lezioni e infatti oggi vi parlerò di un argomento piuttosto importante per quanto riguarda il novecento infatti parleremo della rivoluzione d'ottobre in russia come sempre preparo powerpoint e cominciamo con la lezione quando si parla della rivoluzione d'ottobre spesso iniziamo a parlare di questo argomento con un evento successo diverso tempo prima infatti la russia era un paese altamente instabile già nel 1905 infatti vi era stata un primo tentativo di rivoluzione contro lo zar nicola secondo questo perché le condizioni del popolo russo erano condizioni piuttosto pessime la situazione economica era una situazione abbastanza grave e la maggioranza della popolazione viveva in miseria in questo periodo lo zar nicola secondo per cercare di risollevare il morale del proprio popolo ingaggiò una guerra contro il giappone per il controllo di una zona orientale cioè la manciuria e attraverso questa guerra lo zar nicola secondo sperava di ottenere diciamo un miglior clima interno ma la guerra fallì clamorosamente e per la prima volta nella storia un paese asiatico riuscì a sconfiggere una potenza europea questa sconfitta portò appunto alla rivoluzione del 1905 fu una rivoluzione in cui si cercò di togliere dei poteri allo zar venne creato un parlamento chiamato duma ma che poi non ebbe grossi effetti infatti lo zar nicola secondo fu bravo poi a riprendersi tutti i poteri che aveva perso via via tanto che arriviamo al 1914 quando lo zar decise di entrare in guerra contro l'austria ungheria scatenando così la prima guerra mondiale e la prima guerra mondiale fu proprio la causa della rivoluzione successiva infatti nel febbraio 1917 scoppia una rivolta in particolare a san petroburgo per le condizioni in cui versava il popolo russo che stava vivendo la guerra in maniera molto negativa c'erano state grandi privazioni dopo un'ondata iniziale di patriottismo la situazione cominciò a peggiorare gradualmente il cibo veniva razionato l'esercito era in grande difficoltà e la germania stava avanzando anche perché appunto lo scontro era soprattutto contro i tedeschi che cosa succede allora scoppia una rivoluzione chiamata rivoluzione di febbraio che anticiperà appunto quella di ottobre entrambe avvengono nello stesso anno 1917 che cosa succede lo zar nicola secondo invia l'esercito per bloccare la rivolta a san petroburgo ma l'esercito una volta arrivato sul posto invece di sparare sulla folla decide di unirsi ai manifestanti a questo punto una volta perso il controllo dell'esercito lo zar nicola secondo si può dire che ormai è spacciato infatti la duma cioè il parlamento russo era nato appunto nel 1905 convince lo zar ad abdicare e crea un governo provvisorio borghese cioè un governo moderato diciamo non un governo estremista questo nuovo governo attua subito alcune riforme importanti ad esempio elimina la censura che vigeva in russia così come elimina la pena di morte toglie privilegi alla nobiltà e stabilisce anche la libertà religiosa quindi tutti elementi importanti per il popolo dopodiché indice cioè organizza delle nuove elezioni per creare un'assemblea costituente l'idea era quella di rendere la russia uno stato moderno e una democrazia come quelle europee all'interno di questa cornice rinascono anche i soviet i soviet erano delle organizzazioni che erano nate proprio nel 1905 e anche esse poi diciamo cessarono di esistere in questo caso rinascono ed erano delle assemblee di fabbrica in particolare ma anche di contadini in cui si discuteva dei problemi della fabbrica e si proponeva via via delle varie soluzioni quindi erano degli organismi di democrazia all'interno in particolare delle fabbriche e quindi a maggioranza operaia nella rivoluzione di febbraio un ruolo importante fu quello del partito socialista che in russia era diviso in due fazioni da una parte i menschevichi che erano la parte più moderata quindi potremmo definirli di centro-sinistra menschevico in russo voleva dire minoranza anche se in realtà non era così minoritario però diciamo che vennero definiti così perché durante un'assemblea si ritrovarono in minoranza e quindi da lì venne il nome menschevichi che erano guidati da questo politico russo di nome kenensky e loro erano contenti della rivoluzione di febbraio perché volevano delle elezioni libere e un governo liberale dopodiché però c'era anche una parte più estremista definita bolshevica cioè della maggioranza questa parte era guidata da lenin che era questo politico che era dovuto andare praticamente in esilio per le sue idee viveva in svizzera ha vissuto anche a londra insomma vabbè ha girato un po per l'europa e loro invece volevano la rivoluzione e abbattere lo stato borghese e non videro di buon occhio la rivoluzione di febbraio nonostante questo lenin una volta saputo di quello che stava succedendo in russia rientrò in patria proprio perché voleva vedere da vicino che cosa stava succedendo e se era il caso anche intervenire e nell'aprile del 17 pubblica questo questo puscolo delle tesi di aprile qui parla delle sue idee innanzitutto lui dice che lo stato dovrà diventare una dittatura del proletariato cioè una dittatura degli operai dopodiché lui rimendica il discorso della pace a qualsiasi costo secondo lui la prima guerra mondiale è stato un enorme errore quindi bisognava firmare la pace con la germania anche a costo di perdere territorio di perdere denaro e qualsiasi cosa e poi anche l'idea di esportare la rivoluzione una volta che lo stato russo era diventato uno stato proletario avrebbe dovuto cercare di aiutare anche gli altri stati a diventare dittature del proletariato questi discorsi di lenin e frescero c'era una certa presa sulla folla tanto che nel luglio del 17 ci furono una serie di manifestazioni pacifiste per cercare di convincere questo governo borghese a ritirarsi dalla guerra cosa che il governo non voleva fare e anzi proprio durante le manifestazioni di luglio addirittura questo governo in cui c'erano anche i menscevichi sparò sulla popolazione e in particolare appunto c'erano anche alcuni politici del partito bolscevico e questo ovviamente non fece che aumentare l'odio del popolo nei confronti del governo tanto che alla fine i bolscevichi decisero di tentare un colpo di stato e ciò avvenne la notte tra il 23 e il 24 ottobre del 1917 questa è la data in cui normalmente si fa iniziare la rivoluzione d'ottobre in particolare i personaggi che guidarono questo colpo di stato furono due lenin ovviamente ma anche trotsky che era l'altro grande intellettuale del partito bolscevico che insieme a una parte dell'esercito occupano la duma occupano le sedi del potere in russia e riescono a prendere appunto il potere e iniziano a guidare lo stato russo una delle prime cose che fa lenin arrivato al potere grazie al colpo di stato di ottobre è firmare la pace con la germania questa pace si chiamerà pace di brest litovsk e fu una pace molto sanguinosa per la russia perché fu costretta a cedere un sacco di territori come vedete ha ceduto la finlandia la polonia i paesi baltici quindi lettonia lettonia estonia l'ucraina che tra l'altro conquisterà comunque poco dopo e in più promise un ingente pagamento in denaro proprio allo stato tedesco come mai lenin cedette così tanto ai tedeschi perché comunque lenin aveva capito che probabilmente la germania avrebbe perso la guerra e che quindi molte delle promesse che faceva in questa pace poteva non mantenerle e infatti come vedete ad esempio l'ucraina verrà riconquistata poco dopo e anche il pagamento non fu mai effettuato quindi diciamo lenin bleffò un po e comunque gli andò bene durante questi primi mesi lenin portò avanti una serie di riforme ad esempio l'eliminazione della religione il partito bolcevico era un partito fieramente ateo e quindi eliminò ogni religione dallo stato russo dopodiché creò un'armata che era un'armata del partito comunista bolcevico chiamata armata rossa e inizialmente guidata da trotsky dopodiché dette vita al comunismo di guerra quello che si chiama comunismo di guerra cioè pose fine ufficialmente alla proprietà privata tutte le fabbriche tutte le industrie tutti i campi dovevano diventare di proprietà dello stato quindi nessuno possedeva più le fabbriche ma sarebbero state tutte in mano allo stato russo ovviamente questa cosa non piacque a tantissime persone e infatti scoppiò una sanguinosissima guerra civile che si trascinò per tre anni in russia tra il 1918 e il 1921 tra l'armata rossa quindi l'esercito bolcevico e l'armata bianca che univa tutti coloro che non la vedevano ovviamente come i bolcevichi e che ebbero anche aiuti esterni da parte di nazioni che non vedevano di buon occhio lenin in particolare stati uniti inghilterra francia con le nazioni di nonostante questo l'armata rossa riuscì a sconfiggere l'armata bianca anche perché era un armata piuttosto divisa mentre armata rossa era molto coesa e credeva molto in questa guerra l'armata bianca invece si presentò molto divisa per cui non riuscì a coordinarsi e questo portò alla sua sconfitta nel 1922 quindi nasce ufficialmente l'urse quindi cessa di esistere la russia per come la conosciamo adesso e nasce l'urse cioè l'unione delle repubbliche socialiste sovietiche erano 14 stati tendenzialmente autonomi un po come negli stati uniti che però poi avevano un unico presidente quindi pensato una cosa simile a come sono organizzati oggi appunto gli stati uniti lenin potrà guidare l'unione sovietica per pochi anni infatti era ammalato e nel 1924 muore il suo successore dopo alcuni anni di lotta interna al partito sarà poi stalin che guiderà il paese per circa 30 anni quali furono le caratteristiche di questa breve dittatura innanzitutto lenin riuscì a accentrare tutti i poteri nel partito bolcevico quindi tutte le organizzazioni come ad esempio la duma il senato ma anche gli stessi soviet che in realtà dovevano servire in teoria ai bolcevichi furono svuotati di gran parte dei poteri quindi non avevano grandi poteri e la maggior parte del potere quindi finì nelle mani del dittatore lenin e di un comitato centrale che era ovviamente gestito dal partito bolcevico oltretutto lenin dette il via fece nascere la ceca che era la famosa polizia segreta che diciamo servì molto a tenere sotto controllo la popolazione russa e infatti più che di dittatura del proletariato quando parliamo della russia si trattò soprattutto di una dittatura di un partito il partito comunista sovietico bene come sempre spero che questa video lezione vi sia piaciuta e ci vediamo in classe grazie grazie grazie